musica 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 bello a tutti ragazzi oggi andiamo avanti con pins of pezzi e le save dimenticate rompiamo questo e andiamo avanti con il potenziamento disponibile io direi di mettere un altro di questo ok 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 madafuckers andiamo ok quando la statua è rivolta alla cripta essa si aprirà quindi devo fare un enigma spaventoso porca porca allora qualcosa mi suggerisce che devo andare di qua proprio a intuito poi si va di qua poi si va di qua poi si va di sotto magari saliamo un altro pochino di più ole 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 guarda qui come non si ferma poi questo e vediamo così così semplice me la fai wow la telecamera avriaca ci devo mettere un peso ci devo mettere un peso e ora non lo so non lo so l'acqua ti immagino ma intuito esatto deve essere veloce però ole ole eh oh eh se mollavo il dito si richiudeva la porta si infatti il meccanismo va d'acqua quindi wow bello che razza di teschio è quello di che animale di quale razza è stinta la spada dell'acqua che trovi anche nel 2 sembra se in qualche modo malicchio ancora vivo spero che possa perdonarmi la suoni tantissimo bello e abbiamo la spada perchè siamo fighi solo noi quindi corri nel contro le mur ole attenzione non guardano faccia a nessuno neanche al pericolo ole eh questa qui era un po' azzardata lo riconosco no perchè si vedeva eee su da oh quanti cazzo quanti ne escono da qui ma basta perchè mi fai riporti sempre da lì quante cazzo ne escono da sto muro no dall'altra parte oopla wow wow vabbè non è così cioè è mortale nella vita reale per fare lì wow un'altra visione jin vabbè un altro portale o come si chiama guarda guarda ho trovato la spada ti senti pronto penso che non sia saggio indugiare ancora anche secondo me sono pronto ma Ratash si ha malapena accorto della mia spada come fermerò lui e l'esercito con qui sarà fatta apposta questa spada è stata forgiata per tale scopo punto sennò per noi non te la faccio la piglia è necessaria la magia di un altro jin ah perchè te non puoi farlo dammi la spada lascia che ti mostri stai incantando la spada allora non potevi fare la stessa con la nina ah lei è la spada va tutto bene io sono la spada che cosa hai fatto ti ho detto che avevo un compito preciso grazie al mio potere sarai in grado di attaccare Ratash che ne sarà di te quando lui morirà questo non lo so ah lo scopriremo soltanto allora che bello adesso dobbiamo andare sarà tutto inutile se non distruggerai l'esercito ma non penso solo se stessi un pro di di questa razia vabbè andiamo andiamo questa spada dai muoviti 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 ora credo che dovremmo cercare Malik non credo che sarà molto difficile persino ora avverto la forza dell'esercito si ora non fare come il tizio dei due troni che inizi ad attaccare a parlare in 3x4 perchè se no t'azzittisco allora direi perchè? io mi domandano si è cascato adesso giro? guarda piccolo vai mi ande ahia forse si è da tutto muoio di pino si infatti mi devo guardare un attimo l'orecchio si combatti contro il muro intanto insisti forse lo rompi si 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 vada qui la spada overpower vada vada ah ma è per lei che stava lasciando incantesi in una rata se c'è un po' basso ma Sanji non pensavo che sarebbe stato così semplice si infatti Sanji è strano anche ritrovarsi nei panni di una spada durante una battaglia eh comunque sentite no è lei che commenta è lei che commenta che accadrà con questo si te la ahia andiamo insieme adesso ragazzo wow no doppia li distraia tutti è lui è aggressivo so so gioco e canali e e lo abbiamo visto ok e si vada qua trappoloni strano non ce ne sono mi cussano di anito questo guarda Ormai è inutile che insistete Oh grazie passate Oh no dai uccidiamo Mi serve il vostro potere per Sparmi l'abilità No Mori Fuori Oh cazzo Wow Essere fati Oh no Che brutta questa cosa Adora appare anche un super mostro in mezzo Scusate devo passare in attimo Ho detto che devo passare Siamo evocati Giù Sdraiamo i tutti E Sdraiamo Potenzialmente disponibile Congenamento livello qua Ah si qui aumenti Doppio salute Nemici E vai E questo qua quando Grazie I nemici Ah quello lì lo puoi prendere solo quando Hai comprato tutto L'immagine E il mondo dove Andiamo a sparire Vediamo se c'è qualcosa Eccolo lì Olè Se cascavete ci picciavo Olè Guarda Mamma mia Magico Guarda lì È fluido È fluido Non si canta di nulla a nessuno Wow Vabbè ma siamo pieni di tutto Immagino che si scende adesso Dovrebbe morire subito anche lui Ma secondo me farà l'eccezione Vabbè Ha subito Un pochino di suddita Cioè parecchio di più Oh Bastardo Fa così Sì Vi infilcio tutti quanti Ci faccio lo squirino Ma dali com'è Si draia tutti quanti Si fa strada Olè La massa Così non ne vengono più Voilà Muerto Sei moruto Muori Grazie 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 Sweetie Questa è la torre del re Ti farà ritornare al palazzo Immagino non ci sia qualcosa di semplice Come una scala O un ascensore Ma certo Ma sbaglio Non hai gradito molto L'ultima scala Che ti ho consigliato E beh Molto divertente Attento Se volevi fare la simpatica Un momento come questo La scala Presumo che c'era Devo disattivarlo Appena stacco Olè Ok ora Ora Quindi Ora iniziano a mettere Tutte ste combinazioni Scine del cavolo Arraffica sangue Eccolo Eccolo Vabbè a me è più veloce Di una semplice scuola Oh no Dai Oh Oh Ah Ah capito Perché ora si fa così Si fa così Si fa così Beh Abbiamo la scala Animale Olè Guarda lì Agile Spacca tutto Mamma mia Olè Perché non si è attivato Ora ma che hai contro di me Guarda Ti odio Ok Sali veloce Veloce Vai Rantula 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 Guarda Guarda Sata E dove si è andato a sparire Tutto un ricordo qui Ok capito Olè Marietta Cioè Vuoi fare qualcosa di più semplice Wow Minchia Perché sei caduto Non potrei rimanere in equilibrio Aspetta Forse Forse Sì Sì Ho sbagliato l'altezza Dovai Rimani lì Perché se vado là non posso Scusa Dove mi porti Dove mi porti No Vedo delle russine Di là mi Dove provo a soliare di là Qui No Infatti ci torna per forza Non sarebbe cambiato l'amore Ecco lo schigno Inizia a collaborare per favore Grazie Guarda Qui ci sta lo schigno C'è un sarcofago Olè No Ah ok Eh aspetta Se fa così ci posso arrivare Ho detto Se fa No Non ci posso arrivare Lavati Alzati Sopra Come ci arrivo Scusa Non fatevi fare un giro Proprio più semplice Ah no Ci doveva arrivare Semplicemente Per le altre mani Poi Rampi questo E apri qua Oh E apri Perché devi fare l'infano Porta del mezzo Eh e ora Si salve qua Bravo Ok c'era la gigioli La torre segna il confine Del mio regno Quindi Ora siamo nel tuo palazzo Ah si Ma tutto bene Certamente E che cambia Vai Abbiamo interro Vediamo se riesco a recuperare il dialogo Cosa grazie Grazie che? No veramente Volevo dire se riusciva a recuperare il dialogo Ma con questi danni L'hanno messo che Che lo salta E' una cosa inutile Wow Tra Sotto sistema di trappole qui Ma E' un cane Maldito Maldito Ecco Le abbiamo presi tutte Il palazzo Vedi qua Guarda siamo vicinissimi Ho arvinato la festa? Cosa devo ammassare Quei cosi Che c'è Che c'è Levatevi Oh Sentite Grazie 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 Eccolo Vai 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 Veloce Ale Minca quanta gente c'è lì su Ah quindi questi qui non c'entrano niente Quello là sopra Sì 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 Stanno spawnando Allora aspetta Mi fa un attimo un pochino di farm Allora Che ci sono in approfitto Spawnatemi dell'altro Almeno Mi faccio i puntini a casa Bravo Dai ancora uno Allora Non può andare a più esperienza Peccato Allora mi dispiace Ma vi lascio lì Pronti che arrivo Inizio la festa Olè Aspettate c'è da Far partire il cosco Questo Tanto le abilità non è che le uso così tanto Cioè sì le uso ma una in particolare Mari 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 Sdraio 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 Ledi Infia Proprio Intuitivo da solo Devi più forza fare così Vero Non sei contento Se no Eh no Eh ma perché si è voluto andare in là allora Ma Guarda come si fa strada Li ammazza tutti Oh arriva una raffica Arrivo Allora siamo vicinissimi Si apre la via Ahia bastardo Vieni qua Facendo così che si fa Ma chi è No Qui si fa Schiere infinite Numerose quanto i granelli di sabbia nel deserto Come diceva tuo fratello A parte il fatto che gli voleva il suo fiango Eh no Eh no Dai Che culo Olè Lasci città Ecco appunto Ti sciparano Vai Il cornotazzo Bussa Mittera E se tipo lo affrontiamo nel prossimo episodio Perché mancano 30 secondi alla fine del tempo Mi piaceggiate Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo al prossimo video Commentate Mi piaceggiate Mi raccomando